guardi? così non lo ho pensato bene, non si vedono più i farfallamenti guarda se lo abbassano come lo abbassato io modello vecino così veramente modello vecino ma qua non c'è infatti io non l'abbasso mai così ho vengato ho vengato quindi ci sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.